Ciao a tutti oggi in questo nuovo video di Nier Replicant, siamo in un nuovo episodio di questa serie e il nostro obiettivo è potenziare la nostra arma, perché a detta di Nier abbiamo avuto qualche problema nell'affrontare quell'ombra gigante che poi è scappata via. Allora, intanto qui ci sarebbero delle missioni secondarie che magari possiamo attivare, poi prima o poi si faranno da sole. Ecco, questa qui la eviterei perché riguarda un pacchetto da consegnare e dovremmo andare al nido, quindi per il momento la lasciamo lì, va che è meglio. Soprattutto dovremmo consegnare questo pacchetto senza farci colpire dai nemici, da eventuali ombre, senza schivare e senza saltare, ecco. Soprattutto dovremmo consegnare il nostro obiettivo, ma non è vero, 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 ma non è vero. Ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero. E' vero, ma non è vero. Il momento è che non è vero che io non so, è un po' di porsi. Sono in un po' di porsi del nord, dove c'è un po' di porsi. Perchè la parte del porsi, un po' di porsi di porsi da l'aria. Il fatto che il po' di porsi. Il fatto che il suo tempo era un po' di porsi. L'altro è? Il fatto che il po' di porsi. Se non è un po' di porsi, non pensi che non è un po' di porsi. Bella domanda, comunque vabbè, intanto direi di fare questa missione già che ci siamo, visto che ci troviamo già qui, perché lasciarla qui? Facciamo un po' di ombre, magari livelliamo, può solo che far bene, a meno che non moriamo, ecco, piccolo dettaglio. Ah, manca questa. Ok, perfetto. Che ha in bocca sto cane? Erbe di Max. Eh, vabbè, ci torneremo. Questa è un po' di ombre. E' un po' di ombre, non è vero. Questa è un po' di ombre. Non poter farlo da l'arrivare. Ma non poter farlo. 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 No, non poter farlo. Ma non poter farlo. È così對啊! Oh, ma non poter farlo. vabbè, chi lo sa comunque, vabbè, ci siamo qua ci dovrebbe essere il cumulo di ciarpame e infatti il nostro obiettivo è qui allora, entriamo e vediamo se sarà così semplice farci potenziare l'arma no, no, no Ecco, ovviamente Gli mancano le materie prime E chi è che sarà da andare a prendergliele? Una base militare C'è un po' di più, ma non si può riuscire a prendergliele C'è un po' di più? Il mio padre è morto quando il mio padre è morto Il mio padre è morto Il mio padre è morto Un po' di più Un po' di più Un paio? Un po' di più Allora è deciso Oh, meno male Allora, vediamo Dove dovremo andare Per... aspetta Raccogli, va Coda di topo, va bene Tre leghe di titanio, ho detto E via con un'altra coda di topo E si va verso il cumulo di ciarpame Ed è questo posto qua, guardate che roba Allora, vediamo Si comincia la nostra avventura nel cumulo di ciarpame Eh, allora Il problema è adesso trovare la strada Visto che ci sono giusto un po' di bivi Intanto spostiamo questo Per crearci il passaggio là sopra Poi Boh, io direi di procedere Andiamo a tentativi Io non mi ricordo esattamente dove stava Quindi se andiamo di qua Andiamo poi Una strada chiusa Invece di qui Abbiamo più possibilità, ecco Quindi proviamo E via Andiamocene Prima possibile Ora Quale delle due? Proviamo a destra? Vabbè qua per forza Giustamente No vabbè Volendo potremmo anche andare a sinistra Siamo chiusi dentro Dentro con questi Robot Che beh Non che sia un problema Perché li facciamo fuori Però Ci faranno perdere un bel po' di tempo Su 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 Dai forza Spawnate Li facciamo fuori E ce ne andiamo Da questo postaccio Finiti? Assolutamente no Lega di titanio No Mi sa che non era Era le leghe di memoria Che ci aveva chiesto O sbaglio Invece è giusto È giusto È giusto È giusto Perfetto Siamo a una Dai che È la direzione giusta Cioè in questa zona Secondo me Lo riusciamo a recuperare Quindi Aspettando che spawnano Le altre Oppure no Ok Ce ne ha voluto Ancora niente leghe Tu magari una ce la droppi Grazie No Magari l'ultimo Prima di uscire Dalla stanza Secondo me È quello che ci dropperà Quello che ci serve Eccola Ottimo L'ultima Quindi usciamo da qui E immagino che Andando nell'altra stanza Di qua Troveremo l'ultima Lega di titanio Ecco sarebbe troppo bello Eh ovviamente Non è questo Quindi ultima stanza Immagino E spero Più che altro Che qui La otterremo Eccola qua Raccoglio tutto E ce ne andiamo Aspetta ho lasciato ancora qualcosa Ah ma addirittura Nen più Perfetto Ottimo Se mai Ci dovesse servire Una lega aggiuntiva Ora da dove siamo arrivati Ok da questa parte E ci dovesse servire Sì, diciamo che sarebbe bello Anche se vorrei capire chi ci ha provato Perché una cosa del genere sarebbe il top Senza dover rifare tutto il percorso Ok, e siamo arrivati Al negozio dei due fratelli Bene, ci siamo Ora potenziateci queste armi Che è meglio Anche se evidentemente hanno anche altro a cui pensare Perché come abbiamo visto La loro madre è sparita da una settimana Ok, bene Benissimo, benissimo Mi sembra più che giusto Abbiamo anche cercato i materiali Ok, quindi d'ora in poi Per potenziare le armi Verremo qui Cominciò a capire Ok, ok Weiss Ecco Ok, quindi dovremo andare proprio in fondo Ok, quindi dovremo andare proprio in fondo Sì, adesso Adesso ci andiamo con calma No, io volevo parlare con lui in realtà Potenziarmi Ok, ovviamente non possiamo fare niente Perché ci chiede i materiali Però vabbè, volendo D'ora in poi Verremo qui Se ci servirà Quindi si ritorna Nel cuore della montagna Quindi nel Cumulo di ciarpame Vediamo Questa volta Di trovare la Loro madre Quindi abbiamo Un obiettivo diverso Visto che Aspetta L'arma ce l'ha potenziata Vero? Sì Vediamo No Giù Eeeh Se era Questa Forse sì Sapete che non l'è Non ci ho fatto caso Non mi ricordo più Teoria sì Allora Stavolta però Andiamo da questa parte Perché c'è l'ascensore Quindi Scendiamo E vediamo Quanto ci vorrà Per trovare In questo posto gigantesco Una singola persona Ok Ci siamo Bene Ecco Già Notiamo che È diverso Qui Vabbè A parte i soliti robot Che ci droppano I soliti oggettini Ma La vedo Un po' dura Questa impresa La porta è rotta Motore rotto Va bene Oh Pure qua E sparisci Perfetto Eh qua c'è da fare Una bella strage Guardate quanta gente Occhio a questi attacchi Che Anche solo se mi avvicino Ecco vedete Mi fanno Mi sbattono via Quindi o li attacco Da dietro O di lato Quando fanno Quella cosa lì E magari Devo anche stare lontano Quando esplodono Dopo che li ho distrutti Che anche lì Se no Sono guai Allora Noi siamo arrivati Da lì In alto a sinistra Dobbiamo proseguire Di qua Ovviamente Non si apre Subito la porta Perché dovremmo affrontare Ah solo uno Bene Ok quindi di lì Non si passa Perché ci serve Questa qui Ottimo così Ora Allora di lì Non c'è niente Perché come vediamo Dalla mappa In teoria Quella porta Non si apre nemmeno E adesso Vabbè Questa non si apre E adesso Dobbiamo salire qua Sui carrelli Da miniera E ci dobbiamo fare Questa strada Come vedete Lì dai simboli Fino a Laggiù in basso Ok Velocizza un po' Per ora Tutto tranquillo Ma immagino Non lo sarà per molto E infatti Ah ok Perfetto Vabbè direi che qui È ancora Tutto molto Fattibile Ecco già Adesso Cominciano a esserci Ah Nemici un po' Più problematici Nel senso che Si avvicinano Potrebbero dare Un po' Più di fastidio Ma tutto Ancora Gestibile Diciamo Comunque Grazie Grazie alle Magie Device Attacchiamo A distanza Senza Alcun Problema D'altro c'è anche Questo attacco qui Che dovrei usare Più spesso Che Attacca subito Automaticamente Più nemici Contemporaneamente Con più colpi Ah Mamma mia Non mi han preso Grazie Vice Ok Ne usciamo Indenni Anche se un colpo Prima l'abbiamo subito Ma Non fa niente Dai E ora Quelli Lasciamo dove sono Sì In effetti È difficile Ah Chissà Vabbè Allora noi intanto Non abbiamo finito Perché qui Dobbiamo anche Far esplodere Là in fondo Ok Ottimo E ora Ah Ecco Perfetto Devo fare lo scatto Va bene Allora Proseguiamo Qui Boh Ancora non c'è traccia Di nessuno E qui Abbiamo un altro Ascensore E soprattutto Un bel punto Di Salvataggio Un'area così grande Non può che Far pensare A un boss Oh mamma Eh no Eh no Giustamente È guasto Eh non lo so se è guasto In ogni caso In ogni caso Come facciamo Ecco Cominciamo Schivando Ah Ecco Ma Oh Ho detto di saltare Ok Ok Va bene Al pelo Questo non mi piace Per niente Va bene Ah E questo E questo Aspetta Oh Cos'è Provo Ad andarmene così Ah No no Perfetto Mamma mia Siamo passati sotto Eh fatte che Questo coso Ci segue Cioè sto laser Fortuna finito No 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 Via Oh Basta Mamma mia Eh Ma non mi dire Vice Aspetta Sta cosa Mi sa che la potevamo attaccare Cos'è adesso Ci viene Eh ci viene Spiacicare l'altra mano Via 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 Ok Possiamo attaccare Sì guardate quanto danno gli facciamo Bene 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 Allora Continuiamo così Adesso Ci torna ad attaccare quella E invece no Che succede Ok Ricominciano a fare Ah I loro attacchi No 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 però Schiva Ok Ma non ci credo Pazzesco Mi ha preso due volte Vabbè Curiamoci Per sicurezza No Ecco Va bene Va bene Non c'è problema Se ora Tornano A spiacicarci Ecco Non lo fanno ancora Un altro attacco da fare Prima evidentemente Il fatto è che ci manca poco Quindi Magari Ah L'attento Perfetto Vai 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 Prima che si avvicinano Ecco Sì E le mani sono andate Oh mamma Il fatto è che comunque Guardate come le facciamo Come le facciamo fuori in fretta Livello 8 Dimmi che sono finite Allora oh Ok Eh c'erano Tutte queste bolle Di energia Di energia Che Impedivano Di colpirlo Sono apparse delle bombe qua No 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 Perché l'ho presa Ok Ho sbagliato Riproviamo Riproviamo Ecco Vabbè Sapevo io che andava a finire così Eh devo azzeccare il momento giusto Quindi Non è semplicissimo Con il timing In cui esplode la bomba Devo lanciarla Nel preciso istante In modo da Ah ecco Mamma mia non mi ha preso In modo da farla esplodere Lì dentro Ecco qua il timing C'era anche Però Devo avvicinarmi di più Ecco No 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 Via 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 Lasciamo stare Sì Grazie per il suggerimento Vice Però Bisogna riuscirci Vai Niente da fare Ok E un andato Quanto c'è mancato Basta Finiscono più Ok Mi ha colpito lui Ma l'importante Che lo abbia colpito io Scriviamo I suoi soliti missili Comunque È una cosa Ah Abbastanza fattibile Basta che finiscono in fretta Perfetto Ora in teoria finito Sì E via con l'ultimo colpo No Scherzavo Dai 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 veloci Forse abbiamo un'altra possibilità Sì Olè È fatta Al pelo Mamma mia E per fortuna Si ricompone anche Il ponte In modo da Potercene andare Ok Ha anche Un bel verso sigillato Voracità oscura Non credo che lo utilizzerò Ma grazie allo stesso Di che altro Mi vanno bene già Quelli che ho Anzi L'esplosione oscura Mi basta E attenzione Perché mi sa proprio Che abbiamo trovato Chi cercavamo E non solo E non solo Sì È proprio L'opposto Di un miracolo Ok Ok Quindi abbiamo anche Una prova Che l'abbiamo trovati Così Così Vediamo un po' Cosa raccontare Di ciò che abbiamo visto Per fortuna Ci ha risparmiato Il viaggio di ritorno Eeeh Diciamo la verità va Spero Spero non vada a cercarla Là dentro Spero Diciamo la verità Adesso Diciamo Ma... Questo è il mio uomo di casa. 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 Beh, alla fine non l'ha presa male, l'importante è questo. E vabbè, è andata bene, anche se non abbiamo trovato la loro madre viva, ma l'importante è che sia una cosa che in parte già sapevano. Mi chiedo cosa sarebbe successo se non gli avessimo detto la verità. Perfetto, in ogni caso direi che per questo episodio particolare ci possiamo fermare qui. Nel prossimo, ok, dobbiamo controllare la situazione al nido e quindi ci aspetta un altro mega episodio. Quindi ci vediamo appunto nel prossimo video. Ciao a tutti!